Musica Ben trovati a Roma città aperta Oggi abbiamo una giornata molto ricca, molto intensa Intanto perché in città stanno accadendo diverse cose Ci sono manifestazioni anche in questo momento Ricordo a Piazza del Popolo E manifestanti che appunto si riconoscono come Insomma con la dicitura di Forconi Ma è soltanto una parte del gruppo Che in questo momento si è riunito in quella parte della città È prevista anche una manifestazione invece di coloro che difendono il diritto alla casa Quindi seguiremo rapidamente anche gli eventi che avvengono in città Poi abbiamo comunque una puntata ricca di ospiti alle 17.30 Ci sarà l'avvocato per rispondere alle vostre domande sui problemi di condominio Subito invece con me ci sono i titolari di due locali nuovi e innovativi della nostra città Che appunto voglio presentarvi e farvi conoscere Perché sono davvero degli spunti interessanti per far capire come la città cambia Come le esigenze cambiano e come con delle buone idee si possano appunto anche oggi In un momento di crisi fare comunque ottimi affari e avviare una attività Benvenuti dunque a Luca De Marco Luca De Marco è titolare di Aromaticus Tra poco vi spiegherò dove si trova e di cosa si tratta E poi benvenuto a Sergio Siciliano Salve E lui è titolare di Sale e Argento Sono due luoghi dove si può mangiare Ma non solo perché oggi insomma anche i locali legati al cibo Spesso offrono qualcosa in più Partiamo da Aromaticus Il primo nato, voi avete già un paio d'anni di storia Vi trovate nel quartiere Monti, via Urbana Via Urbana 134 In pieno centro E lei tra l'altro è un locale a conduzione familiare Frutto insomma di... Familiare proprio nel senso più largo Ognuno da una mano Perché insomma siamo io e mia moglie con un piccolo Un bambino di 17 mesi Quindi senza le nonne sarebbe impossibile Senza i nonni e i nonni Quindi ognuno mette del suo Ognuno mette il suo a mandare avanti tutta l'economia domestica Naturalmente lei e sua moglie siete più impegnati Perché uno... Siamo i gestori tra l'altro E certo, e sua moglie sommelier Quindi due insomma competenze ottime per un ristorante Però avete pensato a qualcosa di speciale Allora raccontiamo Aromaticus Aromaticus è uno strano posto Perché è un negozio di piante aromatiche Strumenti da giardinaggio tarati Su un giardinaggio urbano, metropolitano Quindi giardinaggio di piccoli spazi Di balconi, di piccoli giardini E però è anche un bistro Un bistro dove si mangia Perché poi alla fine la natura viene fuori Quindi quello che sappiamo fare meglio Io e mia moglie è questo È far mangiare le persone Proporre delle cose interessanti da mangiare Quindi alla fine la cosa che ci porta via più tempo è quello Ed Aromaticus si mangia A pranzo soprattutto Con un menù che è per la maggior parte vegetariano Ma non solo e non necessariamente È un menù di cose sane Diciamo cucina naturale e pulita Ecco quello che... Sono di quei posti dove si va a mangiare E si sa di mangiare qualcosa fatto con amore Senza sofisticazioni Una scelta che parte innanzitutto dalle materie prime Materie prime che alcune volte sono anche molto particolari Stanno scorrendo foto Vedete c'è di tutto Questa è una sistemazione di un vaso Questi sono dei fiori Fiori eduli, fiori commestibili Fiori commestibili Non so se l'avevate già scoperto Ma una gran parte dei fiori Che colorano anche i nostri balconi In realtà stanno perfettamente anche nelle insalate Sono assolutamente commestibili E sono oltre che una nota di colore splendida Sono anche saporiti spesso e volentieri Quindi tagete e la borragine sono fra i più saporiti Che ti hai già assaggiato E quindi sei stata fortunata Altri sono un po' più insipidi Magari più belli Però comunque sia sono nutrienti come delle verdure Ci fanno bene perché sapete Le verdure colorate hanno un sacco di proprietà I fiori colorati hanno le stesse O insomma altre proprietà nutritive importanti Allora questo è aromaticus Poi continuiamo ad indagare Adesso presentiamo sale e argento Sergio Siciliano l'ha appunto pensato Con un'altra socia Daniela Cascallare Allora spieghiamo innanzitutto l'origine del nome Mentre per aromaticus la intuiamo Insomma legata alle meravigliose piante aromatiche Che si trovano nel locale Sale e argento che è un bellissimo nome Ha anche un significato particolare Sale e salento Argento e argentina Quindi il sud del mondo che si sposa In modo un po' come dire Un po' anomalo Dando come dire lustro alla cucina tipica Dei due luoghi Ma tutto rigorosamente senza glutine Quindi già vediamo le empanadas Che sono un piatto tipico argentino Piuttosto che altri piatti tipo i rustici Invece sono tipicamente salentini Quindi questo connubio è un po' Il calore del sud del mondo Che si manifesta con golosità Sulle quali abbiamo lavorato tanto Tutte ripeto gluten free Quindi tutto senza glutine Questo è l'elemento Che rende unico anche questo luogo Come l'unico aromaticus Che mette insieme cose Che non immagineremo di incontrare insieme Ciò che rende primo a Roma Ma non soltanto Forse in Italia E non sappiamo nel mondo Se ci sono altre esperienze simili Praticamente qua Chi ha problemi insomma Di intolleranza Chi è celiaco Ma insomma Chi anche non si trova bene col glutine È sicuro Che in tutti i piatti In tutte le bevande Non ci sarà nulla che può fargli male Assolutamente C'è il senso che è proprio una formula Che abbiamo fortemente voluto Perché in pratica abbiamo detto Io tra l'altro Per la prima volta Mi sono accostato Alla ristorazione in generale Invece Daniele è già una chef Arrivata in Italia Con l'addetto militare Dell'ambasciata argentina Quindi lei comunque insomma Aveva le mani in pasta A questo tipologia di lavoro Io invece ho voluto con lei Creare questa cosa un po' particolare Perché insomma Avendo avuto io un problema Un disagio alimentare di altro tipo Conosco cosa significhi Non poter mangiare liberamente E allora ho pensato con Daniele Perché non facciamo qualcosa Di utile Da virgolette Che possa servire a tutti Ma soprattutto A chi ha intolleranze al glutine Quindi perché noi possiamo Prendere un pezzo di pizza E andare in metropolitana E un celiaco no E allora da qui è partita Questa veramente semplicissima osservazione Mentre all'inizio devono essere Due cucine Quindi una con glutine Una senza glutine Alla fine Visto che poi la burocrazia italiana Viaggia contro qualsiasi idea Non esiste lavoro E poi invece È abbastanza come dire rigorosa Noi abbiamo deciso di fare Tutto esclusivamente senza glutine Ma non pensavamo Ad una eco così importante Perché pensavate di rivolgervi A una nicchia di pubblico Di persone che avevano Questa necessità E invece poi avete scoperto che Che invece piace a tutti Perché evidentemente Mentre stavo ascoltando lui È fantastico Perché stavo vedendo le foto prima E io credo che Abbiano in comune I nostri locali I colori Perché Sì Infatti questo Volevo sottolineare Una grande attenzione all'arte Tra l'altro Nelle foto che scorrono Visto che abbiamo toccato L'argomento colori Vediamo anche delle esibizioni Uno spettacolo So qui c'è il mangiafuoco Il trampolier E così via Sono momenti Dello spettacolo Di inaugurazione Del locale Però so che Sergio ha intenzione Di mantenere Un stretto legame Con l'arte Anche in futuro Anche stasera Stessa c'è un concerto Quindi subito dopo cena Si potrà assistere Al concerto di R Che è questa performer Che è di passaggio a Roma Insomma Suona a New York Insomma In diversi luoghi La performa di Battiato Insomma E' vero anche Che ho la fortuna Di avere grandi amici Artisti Che amano L'idea di poter suonare In un posto Così particolare Dove appunto C'è Fa da padrone Insomma La cucina Senza glutine E queste che abbiamo visto Sono le immagini Dell'inaugurazione L'inaugurazione Fatta dopo un mese Delle aperture Quindi io sono stato Un po' folle Perché non ho voluto Fare pubblicità Come spesso accade No? Per un mese Ho voluto appurare Che lo studio Fatto sul cibo E sul gusto Fosse poi Insomma Sposato Dalla clientela Tutta E l'effetto domino Devo dire Che è Voglio dire È stato pazzesco Cioè Abbiamo avuto Un passaparola Incredibile E dopo un mese Abbiamo fatto Questa inaugurazione Volevo osannare Il senza glutine Non sale argento Sale argento Lo stavano più o meno conoscendo Mi piaceva l'idea Di poter fare Un'inaugurazione Un po' felliniana Facendo capire a tutti Che mangiare senza glutine Non è mangiare È una tipologia Di cibo Destinato A che è una patologia Mangiare senza glutine Per noi È uno stile alimentare Questo è lo slogan Che sta andando molto Quindi Anche le pizze stesse Voglio dire Una pizza in generale Senza glutine È una pizza particolare È un retrogusto Di mare e sorriso Le nostre pizze Fatte da questo pizza Io mi inchino Perché ci ha cercato lui Ed è stata per me Una grande fortuna Crea queste pizze Con un impasto Che è un mix di farine E quindi rende la pizza Come dire Normalissima Anzi Forse di un livello Superiore alla media Una pizza di ottima qualità Molto saporita Non le manca niente Però Non ha appunto I problemi Che può dare La presenza di glutine Andiamo anche all'indirizzo Dove siete voi Non abbiamo spiegato In quale parte della città No A Romaticus abbiamo detto Monti Via Urbana Io invece sono in via Evandro E sarebbe una parallela A via delle cave Una parallela interna Ed è un posto Insomma Una zona appio latino Sì Bravissima Sì Questa bretella Che unisce L'appio latino Allora Un altro punto in comune Siete nati entrambi Puntando soprattutto Sul take away Sul cibo da strada Tra l'altro Questo è un punto interessante Perché Roma purtroppo Ha una carenza Da questo punto di vista Stiamo cercando Di approfondire Questo tema Roma spesso Non offre Nei cibi da strada Il massimo Della qualità Forse la pizza Al taglio Si salva Ma su altre cose Non ce la capiamo Troppo bene E voi avete pensato invece Ad un cibo Anche da strada Molto molto particolare Aromaticus Addirittura So che Dà dei cestini Tutti pronti Per passeggiate Piacevoli In città Facciamo Sì Organizziamo Diciamo il take away Dei cestini Di cartone Insomma Delle scatole Di cartone Dei veri e propri Lunchbox E diamo anche Delle indicazioni Sulle più belle panchine Dove potersi Accomodare Per consumare il pasto Quindi Siccome siamo Vicini al Colosseo Ci sono vari Buoni punti panoramici Insomma Quindi ci sono Bei posti Dove poter mangiare E No Il discorso che facevo È interessante Un intento comune Penso Sia quello Di Noi non facciamo Cucina Gluten free Ma ci abbiamo Dei piatti Gluten free Così come ci abbiamo Dei piatti vegan Così come ci abbiamo Dei piatti crudisti Non facciamo Solo Ed esclusivamente Una tipologia di cucina Però cerchiamo Di stare attenti Alle minoranze Alimentari Diciamo Perché comunque sia Sia che questa cosa Nasca da una scelta etica Che da un problema Vero e proprio Insomma Un'intolleranza Vero e propria Io penso che non sia giusto Che queste persone Debbano essere trattate In maniera diversa Quindi cerchiamo di far cose Buone Anche per il vegano Che magari da solo Mangerebbe a casa La carotina Un po' triste Invece comunque sia Le possibilità sono Infinite poi in realtà Quindi Basta Basta avere fantasia Che è l'unico limite Poi E Comunque Questa fantasia in cucina È un po' Una novità Degli ultimi tempi Insomma L'Italia ha dei piatti Meravigliosi Però piatti tradizionali Che si sono poi Tramandati così Per Per tanto tempo Invece Insomma Negli ultimi decenni Stanno cambiando Parecchie cose Si comincia a sfruttare Un po' di più Tutto quello che c'è A disposizione Sì Gli ingredienti Che si trovano ora Ma senza doverli andare A prendere da lontano Ma che si iniziano a produrre In Italia Come i crescioni Germogli Che poi sono facilissimi Da produrre in casa Aprono Una serie di Possibilità Le erbe aromatiche Che esistono da sempre Però la loro Rivalutazione E diciamo Lo studio di nuovi utilizzi Portano a delle soluzioni Io ricordo un tempo Insomma a casa c'era il sale Il pepe Il po' di origano Ora invece magari ci sono Cinque tipi di sali Sette tipi di pepi E tutto il resto Quindi servono scaffali enormi Per mantenere Diciamo una fornitura base Di spezie E questo insomma è molto bello Rende la cucina più Più colorata E più varia Interessante anche più Più siana se vogliamo Perché appunto Spesso sostituire il sale Un eccesso di sale Con le spezie Fa bene per esempio Sì ti dà quel quid di sapore Che non avresti Magari senza sale Invece a volte basta Veramente una foglia di menta Per cambiare tutto Per cambiare tutto Sergio anche il vostro locale Era nato appunto come Take away Sì questa è una cosa in comune Però anche voi poi Avete uno spazio Per cenare Seduti Siccome appunto C'è stato questo afflusso Inaspettato di persone Allora uno Se fa l'imprenditore Deve anche soffermarsi E dire che sta succedendo Perché la gente piace Non è soltanto Per il fatto di avere Un posto carino Un lounge bar Che poi ognuno Interpreta come vuole Nel senso che c'è un divano Ci sono i tavoli Ci sono le isole Ognuno viene a fare O uno viene a fare L'aperitivo E poi continua con la pizza Oppure viene a mangiare Gastronomia E poi si ferma A bere un bivino Cioè non si capisce Perché non abbiamo voluto Anzi non ho voluto Insieme alla mia social Dare una collocazione Perché volevo che si aprisse casa Al gusto C'è un'altra tipologia Di la sua Io mi inchino Perché la sua La vedo un po' Come una novella Insomma un po' più ricercata La nostra è un po' più casareccia Cioè veramente Cucina casareccia Interpretata Con appunto Questa linea Del gluten free Allora io mi sono chiesto Come mai L'idea di partenza Intanto noi dovevamo Essere un take away Dovamo chiudere alle 11 Dovamo fare E si sta stravolgendo tutto Perché logicamente Molte persone Vengono da noi Alle 11 di sera Vogliono la pizza Piuttosto che A mezzanotte E voi non chiudete la cucina Se qualcuno vi chiede Beh è un peccato Perché logicamente Non stiamo coccolando Il nostro cliente Quindi entra da noi E si diverte Anche perché siamo Un po' bislacchi Quindi la gente si diverte Perché siamo un po' Scemotti Perché siamo un po' Divertenti Così Non avendo delle regole E volendo appunto Rendere umana Una dieta Che fino ad adesso È stata considerata Per pochi Quindi per È stata considerata Una patologia Per chi avesse appunto Quel tipo di patologia Dovevamo a tutti i costi Rendere anche L'ambiente Diverso No? Rispetto Infatti non so perché All'inizio tutti pensavano Al take away Un po' angusto Buio E invece vedendo Questo colore Questi Spruzzi Quella di colore Eccetera Questo bianco Incredibile Poi man mano Chi frequenta Il locale Sta vedendo La trasformazione Come dire Quotidiana Perché Ecco tra l'altro È anche un luogo Aperto all'arte Sottolineiamo anche Questo aspetto Già ci sono delle belle Installazioni Una collezione di quadri Ma tutto questo Cambierà Insomma Nel tempo Sì sì Ci saranno sempre sorprese Sì sì Ma intanto Mi piaceva l'idea Di poter dare La stessa opportunità Che sto avendo io Perché Non so per quale motivo Mi è venuta questa idea Che sta funzionando Perché non è stata Decisa a tavolino Quindi io Mi inchino In questo momento storico In cui tutti quanti Stavano chiudendo Come giustamente Diceva lui prima Io ho voluto Come dire Osare Quindi la stessa opportunità Che ho avuto io Nel lanciare Un'idea Innovativa Diversa Così come la vedono Gli altri Non come la stiamo Vivendo noi Perché è una cosa Che abbiamo Come dire Maturato In un anno e mezzo Perché non dare La stessa opportunità Ad altre persone Che logicamente In qualche modo Esprimono l'arte Attraverso una valigia Piuttosto che un quadro Piuttosto che una foto Per appunto Farsi notare Vedere in questo Marasma di colori Quasi circensi Tra gusto e arte E questo abbiamo fatto Quindi da noi Potresti trovare La valigia Piuttosto che Un gioiello Piuttosto che la scarpa Nel bagno Perché sono dei luoghi In cui uno Magari riflette Un po' di più Sulla Sulla presenza di Oggetti Che non riguardano Il contesto Poi per il resto Ripeto A me piace Il sorriso E l'emozione E in un mese E tre settimane Oramai Veramente c'è da scrivere Un libro Perché quello Che abbiamo percepito E quello Che ci hanno regalato In emozioni Non si può descrivere Perché noi L'abbiamo fatto Pensando veramente Di donare Delle Voglio dire Una comodità diversa Ma non pensavamo Di donare Tanto No? Cioè vedere Che una persona Si è andati molto oltre Grazie insomma Tutta l'idea Del locale Al servire Un piatto Appunto Senza glutine Si è andati molto oltre Avete creato Un ambiente Di incontro Di condivisione Di approccio diverso Poi essendoci pochi tavoli E facendo io Un po' da collante Perché io credo Che chi entri In sale argento Come credo Forse anche non Entra in aromaticus Aromaticus Forse Sposa Sposa non soltanto La finalità Gastronomica O L'oggettività Del locale Ma anche Chi lo rappresenta No? Io credo E quindi Fondamentalmente Hanno bisogno Un po' come se fossi Noi il mentore In questo percorso Gastronomico Vogliono la tua presenza Esigono la tua presenza No? Perché devono sentirsi Raccontare Perché è nata questa idea Perché se nessuno di noi E' celiaco E' stato impostato Il tutto Seguendo questo orientamento Ma la cosa più importante E' che comunque Appunto Ci sia questo Con pochi tavoli Questa sorta Come dire Di unione Di realtà Diverse Ed è bellissimo Perché a fine serata E' come se fosse Tutto un gruppo Di gente Che è venuta Ognuno per i fatti suoi Un paio di persone In un tavolo Alla fine Sembra di stare Con un gruppo di amici Che si era dato Un gruppo di amici Questa è una cosa bellissima Una cosa bellissima Pochi tavoli Ci sono anche in aromaticus Si pochi tavoli Ci sono anche in aromaticus E' un po' diverso Nel senso che comunque sia Il bistro è dentro A un negozio Quindi E' molto meno lounge Nel senso che Poi alla fine Anche se poi Le persone si conoscono Beh però anche la vostra E' una specie di Installazione artistica Cioè sono L'esposizione E' un installazione Guarda noi avremmo Avremmo voluto Anche noi Aprire Offrire i nostri muri E i nostri spazi Però ci sono finiti I metri quadri Nel senso che Siccome L'abbiamo costruito noi Dal pavimento Al soffitto Con l'aiuto di tutti Di mio suocero Delle solite nonne Eccetera Tutta la famiglia Ha partecipato E siccome Ognuno di noi In un modo o nell'altro C'ha delle Pulsioni creative Molto Forti Poi alla fine Ognuno di noi Io faccio le grafiche Per esempio E il sito Mi occupo di queste cose Che poi Anche la voglia di cucinare È nata Proprio da un'esigenza creativa Quando ero un po' più giovane E quindi niente Volevamo Però poi ci sono finiti C'è finito lo spazio Perché l'abbiamo Riempito e saturato Di noi No? Certo Però poi alla fine I dei erano superiori Ai metri quadri Però poi alla fine Le persone si sentono A casa E questa è una cosa Che Anche questo crea Le occasioni Per incontrarsi Proprio in usare Per conoscersi All'interno Sì Perché poi c'è un giro Che ormai Di persone Di abitué Di persone che E poi ci hanno È chiaro Ti riferisci A un gruppo di persone Che Voglio dire C'ha una visione Magari Simile Delle cose Quindi persone Che pensano A vedere le cose Con un occhio Un po' più Puliso Un po' più E a fare le cose Magari un pochino Più secondo natura Tra l'altro Date anche delle buone idee Per rendere la città Più bella Perché arredare Il balcone Farsi un orto Piuttosto che Una fioriera A casa Migliora la città Per tutti Migliora la città E poi migliora Il proprio rapporto Con la natura Nel senso Non è che uno fa l'orto Sul terrazzo Per Per nutrirsi Non è sufficiente Il terrazzo Perché comunque sia È chiaro Che non basterebbe Però Far vedere a un bambino La magia Di un seme Che fa spuntare La radice È una cosa Che non apprezzo Secondo me È una cosa importante Perché purtroppo In un'era Assolutamente Satura di digitale Il rapporto Con le cose Con la terra Si perde Quindi è importante Che si creino Delle occasioni Per far vedere Ai bambini Alle persone Come funziona La natura Perché Quella pianta Nasce in quel modo A quella forma A quel sapore Nasce a quella latitudine C'è anche Diciamo Una finalità Culturale Ma non Cioè Di cultura Delle cose Di cultura Della natura Di cultura Bellissimo Allora Vi faccio i complimenti Spero di aver dato Ai nostri Telespettatori Un non doppio messaggio Appunto Il primo è Andate a conoscere Questi locali Dal vivo Perché sicuramente Sono un'esperienza Insomma Al di là Delle cose Che potrete assaggiare Sono molto belli Anche da vedere E poi Vedete che Insomma Con una buona idea Imprenditoriale Si può Anche in questo momento Di crisi Sfuggire un po' Alle logiche E tutto questo Insomma Migliora La vita di tutti E dà anche Un'opportunità Di lavoro Appunto A chi ne sta cercando Uno Quindi grazie Grazie davvero A Luca De Marco Sergio Siciliano In bocca al lupo Avete iniziato Alla grande Insomma Avete avuto fortuna E adesso L'augurio è di continuare Ancora di più Con Con questo Questo vostro Successo Perfetto Noi ci fermiamo Allora Piccola pausa Al solito Per la pubblicità E poi c'è Una parte Insomma Che conoscete bene Quella dedicata Alle vostre domande Sul condominio Un'altra poco